. Daniele Bossari con scialle e infradito in diretta, svelato il motivo Grande fratello VIP, Daniele Bossari, ecco perché è vestito con scialle e infradito. . In questa puntata del Grande fratello VIP, tutti i concorrenti si sono vestiti per l'occasione il più elegantemente possibile, tranne uno. Il simpatico Daniele Bossari è infatti apparso con uno outfit davvero strambo. Il conduttore ha deciso di indossare uno scialle, una semplice t-shirt nera, delle infradite e un paio di pantaloni che, solitamente, indossa per trascorrere le sue giornate all'interno della casa. Inutile dire che sui social si sono scagliati tutti contro di lui, anche con moltissima ironia. D'altronde, non è un abbigliamento tipico della prima serata televisiva. In ogni caso, i suoi fan sembrano averlo approvato anche in questa veste un po' controcorrente. Il motivo di tale scelta è però del tutto inaspettato. A quanto pare, il compagno di Filippa Lagerbacca è stato costretto ad indossare degli abiti così casual per una serata importante com'è quella di oggi. Bossari sembra non aver ricevuto dal GF l'abito richiesto per la serata e così si è dovuto accontentare di ciò che già aveva. In ogni caso, il conduttore ha il suo perché anche con questo strano outfit. .